Uno sprint devastante, stava per uscirla a riprendere. Izco vuole fare tutto da solo, gli riesce, c'è Tiglia al centro, cross lungo, c'è Divacqua che la rimette giù da Gerardi, che controlla il pallone, forse con un braccio, non secondo il direttore di gara, Izco, cross per Corticchia che diventa un tiro in porta che sorprende Santi, raddoppia la Tivoli. Sì, grazie.